Le feste natalizie sono passate ma il loro ricordo è quanto mai presente, anche perché più di qualcuno sta scontando un po' i peccati di gola facendo ammenda in vista poi delle altre festività, quelle di Capodanno. Ma come hanno trascorso Natale e Santo Stefano i turisti e i bassanesi? Scopriamolo insieme. Con i nostri parenti, i nostri familiari. Cosa avete mangiato di buono? Eh beh, siamo stati in Trentino, quindi Canederli, Cervo, Gugu, sì sì, ci siamo dati. Siamo andati a trovare il nostro figlio e siamo stati insieme a festeggiare la nascita di Gesù Bambino. Natale quindi in famiglia, signora cosa avete mangiato di buono? Abbiamo mangiato tante cosette, baccalà mantecato, carne, pomodori sottili piccolini, poi mio nipote che è bravissimo a fare il pasticcere perché è il suo hobby, ci ha fatto una torta speciale con il coso al cioccolato e con la panna e così insomma abbiamo mangiato troppo. Ho mangiato troppo, oggi allora si cammina un po' per smaltire. No, abbiamo sempre camminato e io faccio digiuno. Abbiamo fatto un bellissimo pranzo di famiglia con nipoti, mogli, fratelli e quant'altro. Cosa avete mangiato di buono? Mia cognata ha fatto un buonissimo pasticcio, ha fatto il classico arrosto, contorni, abbiamo mangiato proprio bene. A casa e basta. A casa e in famiglia? Sì. Cosa avete mangiato di buono? Abbiamo mangiato un po' di carne, un po' di pieti nazionali, così, anche con la famiglia. Il regalo più apprezzato sotto l'albero qual è stato? Soldi. A casa con i familiari, tranquillamente. Menù a base di? Carne, carne e pasta, pasticcio, lasagna al forno, ecco, un Natale classico e tranquillo. Famiglia in casa, sì, sì, tutto ok, tutto a posto. Il regalo più apprezzato qual è stato, signora? Un profumo. Chiaramente menù a base di pesce o carne? Pesce. Rispettate in pieno la tradizione, allora? Sì, sì, senza altro. Grazie. 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 Grazie.